ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video come avete capito dal titolo oggi vi farò vedere tutti i miei smalti semi permanenti che ho di la fem quindi di alas cosmetics allora qua ho messo le varie praticamente che arrivano fino a qui tutte queste qua le varie basi nel prep i lucidi eccetera eccetera e quando c'è tutti i colori quindi adesso andiamo a vedere uno per uno allora cominciamo con le basi o comunque sotto all'info box vi lascerò il link di alas cosmetic della fem così o mano mano che faccio vedere varie basi lucidi e colori stoppate il video io mi fermo un pochino quindi per darvi il tempo di stoppare di prendere bene il codice il nome del semi permanente o della base o quello che sia così poi andate a cliccare direttamente sotto all'info box nel sito che vi metterò il link diretto al sito e così potete andare a mettere il carrello acquistare i prodottini se ho quelli che io vi piace che mi interessa li potete acquistare allora partiamo quindi con le basi eccetera allora qui ho il nel prep e ve lo apro però comunque nel siamo tutti com'è molto insomma liquidino così quindi il nel prep poi ho la vitamin hd base coat questa ha le vitamine all'interno allora vediamo un po la densità abbastanza liquidina diciamo più o meno il tra liquide densa ma se stende che è una meraviglia ragazzi io comunque vi consiglio tutto di loro eccola qua vitamin hd base coat poi ho il matt top no wipe questo qui è un tap si è un tap questo qui è è un matte ragazzi quindi fa diventare lunghe ovviamente opaca molto molto densino vedete beh venga tanto dentro tra denso e va bene allora questo qui ve lo strastra consiglio il matt top no wipe perché è un mat senza dispersione quindi come mettete la male lampada tirate fuori e praticamente non dovete sgressa ma lascia le unghie veramente ragazze di seta cioè quando lo toccate al tatto vi gustare starete sempre fa così in tele unghie stave la tocca perché è una roba bella un po ve lo strastra consiglio è formidabile questo matt poi ho il pil off base e top quindi questo fa sia da base che da lucido è questo è bello scivoloso insomma ok allora questo qui praticamente è per chi si stufa di avere sempre lo stesso colore le unghie quindi voi cosa fate mettete applicate questo un primo strato mettete il colore parte vabbè la preparazione dei lunghi lo sappiamo tutte adesso io vado subito al succo insomma al sodo quindi mettete uno strato di pil off di questo qui il colore poi rimettete una seconda volta come lucido però è un po più abbondante lo mettete praticamente questo così questo top praticamente vi durerà tipo questo pil off più di una decina di giorni cioè c'è nel senso voi al decimo giorno metà spiega voi al decimo giorno praticamente potete andare con spingi i cuticoli un bassoccino d'arancio cominciare dalle cuticole da lati e sollevare praticamente il colore e il pil off eccetera così potete andare ad applicare mettere un altro colore questo molto molto comodo perché per chi ripeto si stufa ad avere per un mese non ce la fa ad avere lo stesso colore lo stesso disegnino quello che sia con questo qui è molto adatto perché ripeto dopo dieci undici giorni potete andare a rimuoverlo tranquillamente e non mi sorvina ne manco le unghie naturali quindi questo è molto buono poi questo che ho fatto vedere ho questa base qui che questa è la g 001 che l'h di builder base con questa qui potete fare praticamente di piccoli allungamenti infatti molto densa ed è autolivellante e ora straconsiglio anche questa autolivellante molto densa è costruttrice anche quindi autolivella anche lunghe a vostra naturale se c'è qualche difetto diciamo comunque si permette anche dei piccoli allungamenti poi ho l'f 002 eccolo qua che la fiber builder base questa qui è ottima anche per il baby boomer ed è questa qui bianca molto molto densa anche questo hotel livellante costruttrice vedete molto bello questo bianco che già l'ho usato sul clienti ed ottimo vi permette di fare anche questo piccoli allungamenti in più potete fare una leggerissima bombatura per fare un semi permanente con rinforzo questa pure verrà straconsiglio ottima poi adesso con le basi insomma lucide eccetera eccetera passiamo ai colori la parte più bella allora come colori ho questo qui che è l'h224 che questo è roller coaster questo della collazione la collazione della collazione luna park ed è questo bellissimo arancio metallizzato e brillantinato è spettacolare ripeto tutti i colori loro di la femme comunque questi ovviamente con il bollino ultra hd pigmentati che sono molto pigmentati cioè in prima passata già sono coprenti e si autolivellano da solo e non lasciano striature poi ho questo semi permanente qui che questo è l'h 139 questo si chiama natural h 139 ringrazio tantissimo a di laria di la femme e loro colleghi che praticamente contratti al cosmo prof ci hanno fatto questo pensierino e mi hanno fatto questo pensierino qua di questo bellissimo colore nude tra maroncino nude molto 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 bello poi ho l'h228 questo si chiama scusate di qua fairy queen questo pure della collezione luna park sempre metallizzati brillantinati insomma perlati guardate quanto è bello questo l'ho usato su tre clienti già molto molto bello è bello perché lo vedete così rosa ma dopo a quei riflessi viola dipende come muovete l'unghia vedrà quel riflessino viola veramente molto bello poi scusate ma ok poi ho questo stupendo colore questo qui l'h211 non so se ce la faccio fate percepirlo questo è l'h211 questo qui era delle collezioni di non mi ricordo mi pare ottuno inverno se non erro che c'hanno i nomi delle nazioni praticamente se non erro era con l'ottuno inverno ma vorrei sbagliare ed è stupendo ragazzi questo blu c'è pare in blu elettrico bellissimo è spettacolare ragazze questo colore mi piace da matti bellissimo poi abbiamo questo qui che l'h218 questo questo mi ha anche molto optica sirvi di passo in unghie che questo è alfa pegasi se non erro si come si è andato via un po alfa pegasi l'h218 questo era invece della collezione natalizia falling stars mi pare se non mi vorrei sbagliare non mi ricordo il nome comunque era della collezione di natale 2018 cioè spettacolo spettacolare vedete che non cola nemmeno per quanto sono pigmentati densi bellissimo poi ho quest'altro che questo è l'h220 questo me lo ricordo è bellatrix questo cui pure della collezione falling star sempre di della collezione natalizia insomma diciamo è questo oro rosa però a tutti i brillantini multicolor arcobaleno tipo come questo come fosse che hanno fatto oro rosa e poi ce n'è messo questi brillantini qua molto color molto 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 bello questo questo è spettacolare a faccia marti poi ho l'h229 questo si chiama candy lollipop pure questo della collezione oddio oddio idea dell'una park che è un rosa stupendo per la lui qua ragazzi vi stavo dicendo che è molto molto delicato come colore ed è bellissimo stupendo se sentite a parlare scusatemi ma c'è il tecnico di internet praticamente quindi se sentite a parlare questo invece l'h216 non lo vedrete mai il numero perché scuro che si chiama ecco madrid quello della collezione dei nomi delle nazioni insomma insomma ricordo come si chiama la collezione l'ho detto prima e non mi ricordo che questo cos'è un prugnato più o meno sì molto molto bello è un prugnato si è imprugnato violaceo minaccio scuro bello poi ho quest'altro bellissimo h226 che è un altro blu questo si chiama fanny splash pure questo quello gli hanno dato i nomi per quanto riguarda le attrazioni delle attrazioni del luna park è un blu bellissimo pure questo sempre metallizzato perlato brilantinato stupendo ragazzi quando sono innamorati di semi permanenti loro i colori della femma poi abbiamo quest'altro che è stupendo qui non ci vedo manco io allora questo è l'h ok 221 che veda questo pure della collezione fallista ecco che quella natalizia credo non avrei sbagliato che questo bellissimo nero che c'è una mia cliente che ne va matta infatti l'ho fatto la settimana scorsa questo l'ho usato che è figo perché oltre a avere tutti i brillantini multicolor anche le pagliette vedete qua del pennello qua sopra ed è un effetto spettacolare pare che sta intera galassia anche l'universo una roba bella un po poi ho questo qui che non si legge il nome e il numero scusatemi questo è oggi c'è un nome si chiama burcundi globo che l'h113 questo pure è stra stra bello che è un pure questo pare su un porpora un pure un vinaccia manzo se potete percepire che tutti questi brillantini all'interno stupendo stupendissimo questo poi o questo qui che l'h215 che questo verde in pace da impazzia lavoro ad operato su di me che dublin questo pure della collezione della collezione delle nominali delle nazioni che questo bellissimo verde questo ragazzi è veramente questo solo una passata bisogna dargli che basta veramente solo una passata dato che io poi devo mettere sempre due passate ma questo veramente ne basta solo una è un verde molto strano tipo militare ma è bellissimo tanto poi mancano altri quattro colori abbiamo questo che è stupendo me l'ho rodoperata anche su di me l'estate scorsa che l'h205 questo si chiama dance all night che questo rosa fluo spara flashato proprio guardate che bomba dal video ancora più bello acceso c'è dal vivo lo di scusa scusate no c'è questo veramente favoloso poi ho questo bellissimo rosso che l'h178 si chiama elegant red mi ricordo qui è andato via perché me se macchia questo molto infatti ogni volta lo pulisco vedete questo l'ho doperato ragazze tantissimo non so nemmeno quanto mi è rimasto ma sulle clienti l'ho doperato veramente veramente tanto è un rosso proprio il rosso classico proprio il rosso di eccezione proprio quello il rosso rosso che vorrebbero tutte questo perché è questo veramente veramente bello rosso bello acceso bello porposo bellissimo poi ho questo qui che questo lo leggo qua sono se vede è l'h125 che si chiama classic che pure questo è un violaceo però non proprio un prugnato e questo me l'aveva fatto come pensierino sonia m80 che c'eravamo fatti quei pensierini qui lo vedete nero ma non è ragazzi è un viola proprio scuro scuro tipo prugnato pro scuro 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 bellissimo grazie sonia poi l'ultimo colore è questo qui che l'h 210 dovevate visto il video ieri e questo si chiama oddio paris che l'ho usato per fare il baby boomer che ho fatto vedere ed è questo bellissimo rosa molto delicato da vi allora dal video lo vedete molto più chiaro tipo latte biancolatte una roba del genere invece dal vivo è più è più rosa e più scuretto diciamo non è così chiaro chiaro come lo vedete ma questo pure molto molto bello e niente ragazzi questi qui sono stati messi i miei permanenti della fama non mai contati quatticino 1 2 3 4 5 6 7 16 però piano aumenteranno lo spero e niente spero che comunque questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per i vostri acquisti sulla fam quindi sulle cosmetiche vi ricordo che sotto al video vi lascerò nell'info box il link diretto per andare a vedere i loro prodotti quindi come ho le basi eccetera o i colori quindi volendo mi stoppate il video e poi l'andate a cercare così fate la vostra scelta di quale colore acquistare vede quale basi eccetera e niente io spero che video vi sia piaciuto mettete pollice in su sotto al video se volete commentatemi e non ci do presto al prossimo video ciao